Le Fonti TV ha intervistato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, sulla lettera che il Consiglio di Disciplina della Corte d'Appello di Milano ha inviato ai Consigli dell'Ordine richiamando l'attenzione sull'utilizzo dei social network e sull'acquisizione di premi e riconoscimenti da parte degli avvocati. Ascoltiamole ai nostri microfoni. Parliamo appunto della lettera del Consiglio di Disciplina che annuncia sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati che divulgano i nomi dei clienti sui social e acquisiscono premi e riconoscimenti da soggetti che non siano abilitati istituzionalmente. Ecco quindi la lettera è divisa in due diciamo macro temi che sono l'utilizzo dei social network da un lato e l'acquisizione di premi e riconoscimenti dall'altro. E vorrei soffermarmi inizialmente con lei appunto sulla parte che riguarda i social network stante il fatto che la lettera fa riferimento all'articolo 35,8 del nuovo codice deontologico che appunto prevede il divieto di divulgazione del nominativo dei clienti ancorché questi vi consentano e che è un divieto che è sopravvissuto appunto come sappiamo alle liberalizzazioni del 2006 del decreto Bersani e che appunto diciamo che ormai da diversi anni a questa parte molti studi legali usano pubblicare sui social le operazioni con il nominativo dei clienti. Le chiedo quindi qual è la razio di questa presa di posizione che potrebbe insomma apparire anche come una battaglia di retroguardia. Dunque il consiglio distrettuale di disciplina ha scritto ai consigli e l'ordine dicendo siccome ci sono una serie di situazioni che sono sensibili dal punto di vista deontologico ci ha invitato a raccoglierle, a segnalarle. Questa lettera è stata oggetto di discussione al nostro interno poi la discussione si è aperta a tutti gli avvocati perché è finita sui social come diciamo come finisce tutto sui social. Noi per quanto riguarda la nostra discussione interna abbiamo valutato uno l'ampiezza dei temi trattati perché lei ha detto due macro temi ma nell'ambito di questi due macro temi c'è una serie di situazioni molto diverse tra di loro anche quando si parla di premi in realtà si identificano si ricomprendono in questo termine più situazioni di tipo anche molto diverso e dall'altra parte abbiamo fatto una valutazione su quali siano i nostri poteri di investigazione e quali siano i nostri poteri di selezione. qui c'è un problema su come questa vicenda denuncia secondo me una falla che c'è nel nostro sistema e che infatti potrebbe essere una buona occasione per confrontarsi su questo e cioè gli ordini non hanno nessuna discrezionalità sugli esposti che vengono presentati cioè qualsiasi cosa si dica nell'esposto io presidente lo devo mandare al consiglio di disciplina e non hanno nessuna capacità investigativa a tappeto. l'ordine si può attivare per delle situazioni per degli esposti eccetera chiaramente non avere capacità interinvestigative non avere possibilità di fare una valutazione discrezionale non ci consente come dire di acquisire e una volta acquisito anche di discernere quale va bene e quale dubbio e quindi quella dubbio dobbiamo mandarla al CDD. Il CDD dal conto suo è un organo giudicante e non esercita l'azione disciplinare. Adesso vediamo come evolverà questa situazione. Dopodiché la situazione io credo che abbia una sua aria non va bene che abbia creato tutta questa agitazione però il sasso nello stagno diciamo pone un problema che è quello che è insito anche nella sua domanda perché ci sono quello della pubblicità della comunicazione degli avvocati è uno dei temi più tra virgolette stressati dalla modernità perché chiaramente se la comunicazione cambia a ritmi non più cinquantennali ma a ritmi diciamo da un lustro all'altro si comunica diversamente cioè Obama comunicava molto diversamente da come comunica Trump Trump comunica via Twitter cioè sono saltati tutti gli schemi chiaramente questa situazione crea delle tensioni nel nostro ambito soprattutto a Milano che ha una quota di avvocati che sono globalizzati sono globalizzati e quindi si confrontano col mondo esterno ora l'avvocatura deve avere delle sue connotazioni e un suo statuto deontologico di base che deve essere uguale in tutto il mondo perché deve servire ad identificare l'avvocato e deve servire anche a dare le garanzie che la figura dell'avvocato dà sempre a date e deve continuare a dare dopodiché nell'ambito di questa globalizzazione noi dobbiamo tenere conto che chi si muove deve non essere svantaggiato dagli standard nazionali allora questo per dire che il nome dei clienti si può sbandierare no, non è questo a parte che io non dico niente perché devo essere cauto e prudente sulle mie io ho un mio pensiero chiaramente però siccome il consiglio d'ordine potrebbe essere chiamato a dare un parere preventivo in quanto gli ordini danno dei pareri preventivi cioè su situazioni astratte mentre i consigli di disciplina danno dei giudizi concreti cioè su situazioni avvenute e allora se qualcuno ci ponesse un parere io credo che succederà su questo o quel premio o quell'award o quel modo di comunicare eccetera noi dovremmo dare un parere non è giusto che io anticipi il mio pensiero perché poi deve venire fuori il pensiero del consiglio che il consiglio decide volta per volta però sicuramente sul tema dei nomi io credo che si faccia anche questa agitazione non giovi perché a me è capitato di parlare e ho visto che poi nel tema nomi si inserisce tutto in una sorta di delirio collettivo si dice ah ma come ma allora quell'avvocato che è uscendo dal carcere ha parlato del cliente è chiaro che se tu esci dal carcere dove hanno interrogato il politico tizio di che vuoi parlare se tu intervieni con un comunicato perché è caduto un ponte sono morte le persone e devi fare una difesa anche mediatica della società che gestisce il ponte è chiaro che parli del cliente allora il problema del cliente è la spendita del nome del cliente a fini promozionali c'è una norma molto precisa che è una di quelle norme che viene che è una di quelle che subisce più tensione in questo momento perché chi agisce noi abbiamo un codice odontologico che è molto formato sull'avvocato tradizionale dopodiché ci sono avvocati che sono delle società che operano appunto in un mercato globalizzato che hanno un problema anche di conflitto di interessi che è molto più sofisticato rispetto a quello basico per cui nasce il codice ho assistito lui come parte civile non posso assistere lei come come imputata e allora invece tu trovi che nei cinque continenti può esserci una filiale dello studio che si è occupato di un di un decreto ingiuntivo di mille euro e in un'altra parte di un altro continente deve fare la fusione per la società contro cui ha fatto quello lo sperduto studio ha proposto un decreto ingiuntivo sono situazioni particolari e allora chiaramente anche qui hanno un'esigenza anche di trasparenza in un certo senso che ad esempio esiste per le società quotate adesso non è il caso non esistono studi che sono quotati in borsa ancora almeno poi chissà che succederà ma certamente le società quotate hanno tutta un'altra impostazione quindi insomma anche per dare delle istruzioni agli avvocati che vogliono comunque utilizzare i social network dipende poi da caso a caso anche a livello deontologico la stessa Cassazione si era occupata del tema della divulgazione dei nomi di clienti ma in una fase processuale e invece per quanto riguarda le operazioni diciamo corporate che seguono gli studi legali d'affari c'è tutto un meccanismo diverso e quindi insomma si può valutare da caso a caso la divulgazione dei nomi di clienti immagino allora ripeto io adesso non esprimo un parere perché è chiaro che se lo dico qui è come se lo anche se parla a titolo personale è come se parlasse l'ordine non posso impegnare l'ordine ma io confido che una una presa di posizione potremmo averla nei prossimi nel prossimo periodo l'uso dei social poi cosa vuol dire uso dei social perché l'uso dei social è quello che può fare lo studio legale in maniera professionale poi c'è l'uso dei social che può fare il singolo avvocato in maniera artigianale sono situazioni diversissime però la piattaforma su cui si opera è identica allora l'avvocato che dica si faccia il selfie e dica orgoglioso di aver vinto la causa per tizio anche no no è una questione comunque di buon senso è una questione di buon senso sicuramente ad esempio sui social io non demonizzo i social anzi sono un assertore dell'utilità dei social secondo me i social sono uno straordinario mezzo divulgativo per gli avvocati purché utilizzati con la continenza con il rispetto della riservatezza e con la cautela che aspetta sempre che tocca all'avvocato in qualsiasi cosa maggiormente in un social dove che è un amplificatore di comunicazione un grandissimo megaforo certo in questo senso avete anche in mente delle modifiche al codice dentologico che volete portare avanti mi pare chiaramente poi il meccanismo prevede anche un confronto a livello nazionale abbiamo in mente chi nel senso che noi a Milano questo problema lo sentiamo e ci sentiamo anche diciamo in obbligo di essere dei propositori proprio perché abbiamo una realtà di studi legali che è la più variegata che esista io proprio per assolvere questo obbligo credo anche risposto formalmente adesso al CDD che occorra uno sforzo culturale l'ho detto anche nel mio discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario occorre uno sforzo culturale dell'avvocatura al suo interno per dare una risposta di buon senso cioè per trasfondere questo buon senso in delle norme deontologiche che se sono troppo assertive in una situazione che è variegata finiscono per fare per cercare di fermare un muro in pied un fiume in piena con un muro che non può che essere travolto le faccio un'ultimissima domanda che riguarda appunto la questione dei premi la lettera appunto cita i premi qualificanti capacità professionali in singoli campi di operatività e il riferimento è in particolare i criteri di valutazione di chi assegna questi premi e al fatto che non siano soggetti istituzionalmente abilitati a valutare le capacità degli avvocati ecco siccome c'è chi appunto ha cercato anche di strumentalizzare questo passaggio per insomma portare al proprio mulino le volevo chiedere qual è cosa si intende per riconoscimento istituzionale e appunto com'è possibile ottenerlo allora questo ovviamente è una domanda che va fatta a chi ha firmato quella lettera io immagino che si riferisca a quello che prevede la legge cioè noi con la legge 247 del 2012 abbiamo avuto perfettamente personalmente ne sono stato molto contento l'ingresso nel nostro ordinamento giuridico della specializzazione specializzazione che rigorosamente può essere spesa avendo percorso uno delle due vie i corsi o la via alternativa che prevede la legge che ancora non è entrata in vigore perché sono soggetto alla allora credo che possa volersi dire ma in questo modo si dà una patente laddove invece la legge prevede i modi per dare la patente però qui non credo che si dia la patente semplicemente si attribuisce un'onorificenza che vale quel che vale con questo non voglio sminuire il problema perché che ci sia un problema nell'ambito dei premi io lo so ma lo sappiamo tutti che ci siano dei premi che figliano per cui non c'è solo il premio di penale ma poi il premio di penale di questo e poi di quest'altro e poi di quest'altro ancora per poter avere la possibilità a più persone possibili di dire ho vinto il premio e poi di magari mettere la foto sui social l'orgoglioso di aver vinto il premio del penalista sul dito mignolo della mano sinistra è un problema questo chiaramente allora perché dico che non si può essere non si possono avere regole troppo assertive perché se tu stabilisci specializzazione e solo specializzazione vivi con le fette di salame sugli occhi che lo dice uno che si è battuto per la specializzazione e che si mangia le mani perché dopo otto anni ancora la specializzazione non è entrata in vigore d'altra parte questo non vuol dire libera tutti perché poi certi certi premi creati un po' come si dice poi se anche c'è una questione economica in maniera non seria e non seria vuol dire senza tutto un percorso una giuria qualificata eccetera anche se non c'è scritto nessun decreto legge come viene composta la giuria queste realtà bisogna distinguerle insomma bisogna saper distinguerle allora dobbiamo riuscire a darci delle regole in modo da orientare da orientarci prima di tutto da orientare gli avvocati che in questo momento sono disorientati perché ce ne sono un buon numero che in maniera tranquilla pensando di fare una cosa assolutamente normale oltre che lecita chiaramente magari partecipavano alla cena dell'award questo oppure mandavano il nominativo col curriculum alla selezione che faceva magari anche un grande giornale rinomato italiano e adesso sono paralizzati perché non sanno cosa fare e poi ci diamo anche se è possibile una nostra regola più moderna più adeguata all'evoluzione della società bene grazie presidente per essere stato con noi grazie a voi grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.